Poca gente in spiaggia e il Green Pass che evidentemente ha smorzato le candele. Se da una parte il sindaco Matteo Ricci, a fiammelle spente, parla di una splendida riuscita dell'evento, dall'altra diversi pesaresi e alcuni gestori degli stabilimenti balneari non la pensano così. La manifestazione, ha commentato il primo cittadino, ogni anno muove 30-40 mila persone e con l'introduzione del Green Pass l'abbiamo voluta rendere il più sicura possibile. I vigili urbani hanno effettuato mille controlli e in pochi sono stati trovati senza certificazione verde. In realtà, a differenza degli anni scorsi, dalle testimonianze e dalle foto che girano sui social, si possono notare spiagge semivuote con cittadini e turisti che hanno preferito rimanere in Viale Trieste per una semplice passeggiata oppure cenare al ristorante in tranquillità. Secondo me qui è andata molto bene, la gente è rimasta molto molto contenta, la musica che io faccio è un po' per tutti, sia per i giovani o meno giovani, si sono fermati, hanno ascoltato, qualcuno si è anche mosso, i giovani si sono mosso un po' anche nella strada a ballare, però tutto nella normalità, nella distanza. E con lei quindi ha fatto musica in un ristorante, ci sono stati anche dei controlli? No, poi a mezzanotte abbiamo chiuso perché ovviamente la regola era di mezzanotte, qui abbiamo gli alberghi e quindi oltre a quello non si può andare. E' andata peggio invece ai concessionari di spiaggia. Abbiamo aderito ma per noi era una serata da rinviare, è stata una serata poco fatibile, nel senso c'è stata poca gente e via dicendo, a fare di green pass, no pass, allora è stata un po' di confusione, i controlli c'erano. Quindi anche da lei in spiaggia sono venute poche persone? Sì, poche persone perché il bar abbiamo dovuto tenerlo chiuso per non avere a fare di green pass, problemi e via. Quindi si spera in una buona indizione del prossimo anno? Sì, si spera perché come l'anno scorso ne hanno sbagliato due, non ha fatto, nella festa del porto, nel palio dei bracieri ha fatto sempre questa, che come l'anno scorso ha fatto alzare i picchi, speriamo che quest'anno sia un po' molto diverso. Avete organizzato delle iniziative nel vostro stabilimento? I nostri clienti sono radunati sotto gli ombrelloni, nei lettini e hanno mangiato qua la sera e noi abbiamo piantato insieme a delle persone del comune delle candele in acqua, ma purtroppo ci sono state delle limitazioni per la pandemia. E quindi avete chiuso prima? Sì, abbiamo chiuso prima e abbiamo lasciato che i nostri clienti continuassero la loro serata qua al mare. È andato bene, è stato tutto molto tranquillo rispetto agli altri anni per questo problema del Green Pass, della richiesta del Green Pass e quelli che non erano in possesso sono rimasti a casa o comunque alle sette di sera sono andati via dallo stabilimento. Noi abbiamo tenuto aperto, avevamo circa una ventina di persone a mangiare e c'erano circa un centinaio di persone sotto gli ombrelloni che hanno festeggiato comunque la notte delle candele. Quindi molto tranquillo? Sì, tutto molto tranquillo. Invece dell'ordinanza firmata da Ricci che cosa ne pensate? Mi riferisco a quella dell'esclusione degli esercenti che non avrebbero aderito all'iniziativa. Ma secondo me è stato tutto molto sbagliato perché hanno limitato molto la festa e però hanno deciso di fare così e abbiamo preso atto di questa cosa.